che si arrivi a una pace imposta una pace cercata e non imposta quando Conte dice basta armi qualcuno dovrebbe dirgli ma tu c'hai un omonimo che ha fatto il presidente del consiglio e che è stato presidente del consiglio che ha aumentato più di tutti gli altri le armi a questa crisi non si esce con le armi per cui diciamo che è stato poco italiano come si costruisce questa pace? io credo che tutto parta dall'essere riusciti a bloccare l'invasione e a stare accanto al popolo ucraino some people say this town don't look good in snow